A entrare le nostre ragazze, con il numero uno, Eleonora Ruschio! Con il numero uno, Eleonora Bruno! Il numero uno, Eleonora Bruno! Eeeh, la bambina, la bambina, la bambina! Qua è la prima! Il numero uno, Eleonora! Il numero uno, Eleonora, il mio sugo è un tortellino! La canzone di interesse di quest'anno. Giovanni Ratt, la pirata. Io per l'istante è stato bello. Buona musica, super musica. Il numero 5, Margarina Warniak. Buona musica, Diana Varesevi. Buona musica, Anna Kruse. Buona musica, Anna Kruse. Buona musica. Buona musica, Margarina Warniak. Buona musica. Buona musica. Cristina Iribella! Buon appetito a tutti! Grazie a tutti! Poi il numero 13, Noemi Svizzoline! Poi il numero 14, Caterina Mausetti! Poi il numero 15, Laura Mario! Poi il numero 17, Francesca Bozio! Simulti Un numero 14! con il numero 18, Samantha Fabrizza! Con il numero 7, il capitano Martina Vici! Inferno! Con questa, con questa, in su corpo, apoiando con un Presidente A Sauros, Infiol, di Luzano Perlaro! Grazie